Partiamo da questo rush finale, a questo punto sono diventati due punti in tre partite, chi ci racconta questo rush finale? Vediamo, è tutto da scrivere, vediamo quello che ci riserveranno queste ultime tre giornate, nelle quali ci sono così tanti scontri, così tanti intrecci, che sarà bello vedere un po' come si svilupperanno. Tanto comunque, per cui già l'attività, questo è già un primo traguardo conquistato? Sì, questo è stato un grande traguardo, la cosa che mi è piaciuta molto è che non ce ne siamo neanche accorti, questo è stato una cosa che mi è piaciuta molto, martedì mi ha telefonato Andrea, il mister, e mi ha detto Cazzo Goro, ma siamo ai play-off? Sì, io ho detto siamo ai play-off, però domenica non se ne era accorto nessuno, non ci aveva pensato nessuno, eravamo tutti quasi preoccupati, quasi ci sembrava quasi che dovevamo chiedere scusa per aver vinto senza aver giocato bene. Per me una settimana fa dicesti che molto dipendeva nella corsa al primo posto da se e quando sarebbe arrivata il primo intoppo dell'Avellino, perché poteva cambiare qualcosa a livello mentale soprattutto per il giocatore dell'Avellino, ma poi immagino anche per il Perugia. È arrivato questo subito, questo stop dell'Avellino, cambierà veramente qualcosa? È già cambiato? Cambierà? Io credo che qualcosina ha cambiato già nelle teste, nelle loro teste, come inevitabilmente lo cambierà, come anche un po' l'ha cambiato nelle nostre, nel senso che domenica credo che i ragazzi per la prima volta hanno sentito che il grande obiettivo poteva essere non più così lontanissimo e secondo me lo hanno anche un po' accusato. Per scendere da come andrà è comunque una grande rimonta, qualcosa di difficilmente ripetibile, che è difficilmente immaginabile. Però anche te, insieme al mister, siete stati già protagonista di Perugia di un qualcosa di simile nella promozione della Serie A. Quanto c'è? Può essere paragonabile? Ma lì centrammo il colpo grosso perché centrammo l'obiettivo, possiamo dire anche un po' più facile perché le prime quattro andavano su direttamente. Qui è tutto tremendamente molto più complicato perché i posti a disposizione, il posto è soltanto uno. Questa è la grande differenza. Per dire che è stata fatta una grande rimonta bisogna rimontare fino in fondo altrimenti uno arriva a Roma e non vede il Papa. Una vittoria, non la solita vittoria, ma come gli altri ne hanno vinte tante così. Eppure le critiche sono comunque arrivate perché la gente ormai si è abituata in un certo modo. Ma al di là di questo, forse i tifosi vorrebbero essere rassicurati sul fatto che domenica è successa una cosa assolutamente normale, un calo di concentrazione. Non è che il Perugia sia accesa alla lucina della riserva fisica? Ma questo non lo si può dire fino in fondo. Sicuramente quando uno rincorre spreca tante energie. Sì, questo credo sia un dato di fatto, ma anche questa sosta da un certo punto di vista ci può aiutare a ricaricarci e a prepararci a quello che è poi un rush finale che è fatto di tre partite. Quindi domenica per la prima volta c'è stato tanto caldo e in un gioco molto dispendioso come il nostro chiaramente i ragazzi hanno sofferto, hanno sofferto molto, hanno sofferto, ma credo che sia una cosa più che normale. Il fatto che, come dicevi prima, hanno sentito la possibilità di realizzare un sogno e quindi hanno accusato. Cioè si può perdere la spensiatezza adesso? Questa è un po' la mia preoccupazione. Io credo che quello sia un aspetto determinante per poter arrivare fino in fondo. Fabinho a gennaio è stato richiesto e quindi insomma... Non voleva nessuno a gennaio Fabinho. A gennaio è stato richiesto ma è stato trattenuto, te credo sia stato uno di quelli che l'ha voluto fortemente trattenere. Le risposte che sta dando come nascono? Cioè c'è stato qualcosa che ha cambiato oppure è servita semplicemente la continuità? Ma non lo so, ma credo in una serie di fattori. Non voglio parlare solo di Fabinho perché come lui sono tantissimi, tutti gli altri che stanno facendo grandi cose. E noi siamo contenti di loro. Mi rifaccio al colloquio che mi è avuto con Campione ieri, no? Mi credo che vi siete sentiti sottolineando questo aspetto. Che magari era passato in osservato. Non per mettere vari sali su una pericina che riguarda la questione di sostituzione. L'abbiamo parlato alla settimana scorsa. Ma è un argomento questo che affronti tu personalmente con il tecnico. Perché in virtù di quella spensieratezza di cui c'è bisogno, anche magari una maggiore freschezza, dare un pochino più di respiro anche quando è in corso alla rosa, qualche elemento importante che c'è potrebbe essere un valore più di questo raso finale. Senza dubbio, ma si parla di tante cose, parliamo indubbiamente. C'è confronto su tutto, assolutamente su tutto. Chiaramente il mister fa le sue scelte e io credo che le faccia con coniezioni di causa e sempre per il bene della squadra. Chiaramente nel momento in cui ci sono partite che si giocano a temperature molto elevate, giocare a volte, giocare in 13, in 14, può essere meglio che giocare in 11. Comunque il mister è quello che ha la totale conoscenza dello stato fisico, psicologico della squadra e quindi sa benissimo quello che deve fare. E noi siamo molto contenti di quello che sta facendo. E allora affrontiamo l'ultima decisiva. Lei è direttore, il direttore è dentro la società. La società è impegnata non solo sul campo ma anche fuori. Parliamone, parliamone. In che senso parliamo? Parliamo del NAS, parliamo delle illusioni corse tarocche, parliamo degli assegni post datati della TINA, parliamone. Non ci interessa, c'è la giustizia che penserà a fare il suo corso e a fare bene il suo operato. Io mi auguro che ci riliano il punto perché ce lo siano guadagnati sul campo. La tua raccomandazione che li valei queste ultime settimane? Cosa speri? Non pensare. No, non pensare? Non pensare. Scendere in campo, partita dopo partita e non pensare. Il fatto che si diceva che la partita è messa un po' in difficoltà per lui, il fatto che le prossime tre partite saranno sulla stessa palzaria, questo è un motivo, non dico di preoccupazione, ma insomma? Ma no, è un motivo su cui lavorerà l'allenatore, sono aspetti su cui lavorerà il mister. Chiaramente il tipo di partita che ci aspetteranno lo conosciamo bene, insomma. È un po' oggi senza, è esclusivo, eh? Sì, grazie.